dai nì cambia colore va col telecomando lì vediamo il telecomando ecco qua telecomando per cambiare luci sta ancora che trio è il blu di fianco Valentino Rosso eh si e allora è di fianco qui danni e speriamo che è il nostro pistolo guarda la tua guarda la tua guarda dentro questo non è dribbling sto scartando io i tuoi fattori ciao ciao ciao